Buongiorno a tutti Let's go Allora giochiamo contro uno che ha 87 con la nazione 100% intesa È tosta quanto quella di prima ragazzi Intanto lui c'ha Gelsman e quello d'arte al centro Un po' Neymar, Robben, Benzema avanti Dietro sono veloci, forti, fisici Insomma sarà una partita difficilissima Speriamo di essere all'altezza di questa persona Più che altro cerchiamo di prendere questi tre punti fondamentali ragazzi Infatti eccolo qui Ibra, 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 Sontuoso Oddio la traversa, oddio il gol Mamma mia E' un azarte Boom baby 1-0 Mamma mia Ibra Uno scatto del genere l'ho visto fare manco a Robben Si è presentato Ibra, scatta, si brucia De Bruyne Ramos E che cavolo c'ha? E poi prende la traversa No, oddio il palla Oddio mi sto complicando la vita No, no ragazzi, no, 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 no Ricomincia il valser dei rigoni Guarda cosa ha fatto Tiago Silva Capitano A me il primo rigore del genere non ce l'ha dato giustamente Cioè nella partita, nel scorso episodio non ci ha dato il rigore uguale, uguale E' a lui, si ovviamente Ora la tirerà a centrale, me lo immagino, ma io mi mutterò Si è pronto al tiro, Benzema Eccolo qui E no, io non la prendo Poi d'arriola Marcellino, Marcellino Lancio lungo per lì, Hazard, Hazard Oddio, è andato via È andato via È andato via Hazard è cross il mezzo, Robben No ragazzi, un CL2, non è il pale Oddio, oddio Hazard non va Perfetto, perfetto Oddio Hazard è volato, è volato, è volato È volato Il tiro E c'è la rete C'è la rete ancora di Hazard Bum Vai così Vai così Vai così Subito Inizia Motta risposta Stattato Mamma mia Mamma mia È da Nazardi Non è sta partito all'altra quella parte Partito all'altra è brunno Fuori Fuori Attenzione Prova il tiro dalla distanza Sì 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 Lo vuole cercare Lo cerca Mamma mia Preso la palla Preso la palla Via 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 No 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 Uffa 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 Perché Io non prendo nel palo Sotto la porta Perché E mi prendo nel palo Perché Blancalò Blancalò Bravissimo Robin vai Cerchiamo di ripartire Cerchiamo di ripartire Robin Wonder Ibra Via su Ramos Oddio Ibra Vi smarca tutti Ibra Il tiro Oddio Oddio Mamma mia Wonder Ibra Mamma mia Wonder Ibra Oddio 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 Mamma mia Mamma mia 87esimo Passaggio semicorto Ibra ci arriva Robin Dio ancora Robin Se lo merita tutto Se lo merita tutto Se lo merita Tutto 4-2 la partita è chiusa qui Signore missione mezza con più Mezza con più Mezza con più Vai così Robin Vai così Robin Buona Buona Uff Non siamo a finire la partita Tranquilli Entrano Ribery e Gozze Ragazzi Comunque sia Entrano loro La partita cambia Andiamo a farci La botta secca Seconda divisione Opprima ragazzi Opprima Tutto Nel prossimo Nel prossimo Nel prossimo Nel prossimo Nel prossimo partita Andiamoci subito A giocare Allora ragazzi Già molto Noi c'è 83 valuzioni 100% Quindi la squadra è leggermente In fede Ora cazzo Ovviamente Perché Comunque sia Ha il Bayer Accetto Piszczek E Wodfeller In porta E a sinistra Sinistra Le Bruyne Però Ce la dobbiamo mettere tutta Perché adesso Una partita Dentro Vogliamo la prima divisione Qui al Santiago Benameo Stiamo anche in casa E' tutto nelle mani Mie ragazzi Perché mi mette loro Ma nelle mani mie Speriamo di non prendere più pali Ma buttarla dentro E andiamo 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 Vi diamo di fare il bug Vi diamo di fare il bug Oddio Hydra Shure Non è The Bruyne Porca puttana Ma sempre per terra Stanno Sempre per terra In due la battuta In tre Ci andiamo anche noi In due la Eccola Deva stare Autogol Ragazzi Non ci voglio credere Massaggio corto Yaya Toure Ibra Non riesce a girarsi Ovvio Ibra Il tacco Per Oben Palla iniesta Modric Cross in mezzo Robben E fai così Fai così Chi ha Hazard Mamma mia Hazard Ragazzi Due partite Due gol di testa Fai così Eden Fai così Pacacciano subito La situazione Non va Non va il numero Yaya Toure Yaya Toure Yaya Toure Wondery Robben Marcello Marcello Va a prendere Va a prendere Capisce tutto Capisce tutto Ibra Cucchiaia Per Hazard Il tiro Il palo Il palo Ragazzi Non ci voglio credere Ricominciamo con i pali Ricominciamo con i pali Ancora L'impeccabile Marcello Yaya Toure Oddio Ibra Posizione regolare Di Robben Posizione regolarissima Posizione regolarissima Robben Sì Boom Baby 2 a 2 2 a 2 2 a 2 Mamma mia Subito Veloci Veloci Andiamo Andiamo Interessa vincere Interessa vincere A me Ficca Glielo L'ho più fatta Ragazzi Non sbaglia Mai un passaggio Madonna Marcello Insuperabile Da Robben Oggi Vai Dall'altra parte Per Robben Si ferma Robben Yaya Yaya Toure Dalla distanza Madonna Che ti lascio Vecca boia Uggio Ramos Tevez Vuole uno Tuo Robben Eccola qua Tevez Carlitos L'ha parata L'ha parata Ottiamo L'ha parata Gozzi Tevez Tevez Da solo Iamo Azzar Dai però Compagna Carlitos Yaya Toure Lancia Tevez Attenzione Tu per tu Goal Ottantasessimo Ottantasessimo Boom baby Boom 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 Mamma mia Mamma mia Carlitos Mamma mia Carlitos Grandissimo 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 Mamma mia I love you I love you Carlitos Via Fallo signore Si Prima Prima divisione Prima divisione Prima divisione Prima divisione Dai Dai ragazzi Oddio ragazzi Prima divisione Guadagnata Tutte e due le partite Negli ultimi Quattro minuti Ho il cuore Ho il cuore che batte Velocissimo Ho il cuore che batte Velocissimo Mamma mia Questa partita è stata la più difficile Perché è giocato veramente Bene È stato veramente forte L'avversario Ragazzi Ma l'abbiamo spuntata noi Andiamo a vedere Andiamo a vedere 10.800 crediti Perché 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 Andiamo a vedere Prima divisione Ragazzi Prima divisione Mamma mia Mamma mia Uff Emozionato Emozionatissimo Allora Andiamo a vedere Il titolo A quanti punti Si raggiunge Il titolo Si raggiunge A 23 Punti Noi a disposizione Ce ne abbiamo 30 Ok Quindi al massimo Possiamo fare Due sconfitte E un pareggio Ok Però devono essere 7 vittorie Ragazzi Alla prossima Speriamo di partire Subito A bomba Con la prima divisione Ragazzi Un bacio Qui dal Gladio È tutto Ciao Aio Ciao